Via! Ciao, sono Alessio Berichi, della RSU della TAPM di Firenze. Siamo qui a fare sciopero per manifestare la nostra contrarietà alle misure che l'azienda ha adottato facendo iniziare una procedura di mobilità per 275 persone, colleghi di Fornace di Barga, Serra Valle, Scrivia e Limestre. Insieme a questa procedura di mobilità l'azienda ha intenzione di porre in essere delle mosse industriali che a nostro avviso comprometteranno la presenza in Italia del gruppo. In particolare l'azienda ci ha comunicato di voler chiudere la fonderia del forno Asar, di Fornace di Barga, di porre chiudere tutto lo stabilimento di Limestre e ci ha detto di voler ridimensionare fortemente il tubificio di Firenze, di Serra Valle e Scrivia. In questo scenario il dialogo continua, però chiaramente è molto influenzato dalla procedura di mobilità che ha un termine scaduto il quale 275 persone potrebbero perdere il posto di lavoro. Quali siti a Firenze? A Firenze siamo 120 circa e noi abbiamo un accordo firmato a ottobre che tutela i lavoratori di Firenze per 21 mesi in cambio dell'utilizzo della cassa integrazione che è per 9 persone a 0 ore e per altri invece è applicata per alcuni giorni nel mese. Quindi quello che chiedete è che il dialogo continui? Noi chiediamo essenzialmente all'azienda di continuare la sua missione produttiva in Italia. Noi capiamo che l'azienda ha in difficoltà, noi siamo disposti a fare la nostra parte, siamo disposti a fare delle rinunce. In cambio però vogliamo delle risposte. Non possiamo rinunciare a qualcosa e non avere niente in cambio.